E' questa l'immagine emblematica che racchiude la netta frattura all'interno dell'opposizione del Consiglio Comunale di Sulmona. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, composto dall'ex candidato sindaco Vittorio Masci e Salvatore Zavarella, lasciato solo dal resto della minoranza che ha abbandonato l'aula consigliare di Palazzo San Francesco nella seduta odierna. Una mossa in segno di protesta per il diniego sulla richiesta di un Consiglio Comunale ad hoc sui rilevamenti svolti dall'Istituto Superiore di Sanità in merito all'alto tasso di ospedalizzazioni a causa di malattie oncologiche dei residenti nei pressi della discarica cogesa. Ma è solo la punta dell'iceberg di una spaccatura accentuata dopo la foto che ha immortalato i due esponenti meloniani a cena in un ristorante a Pescara, assieme al sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero e due consiglieri esponenti della maggioranza Claudio Febbo e soprattutto Mimmo Di Benedetto, capogruppo del Partito Democratico all'interno di Palazzo San Francesco. Un'apparanza indigesta, nonostante i cinque commensali abbiano liquidato l'incontro come una semplice cena tra amici e nessuna ipotesi di allargamento della maggioranza con i meloniani a bordo. Alibi non sufficiente, Teresa Nannarone, consigliere di minoranza, ha presentato nella seduta odierna un'interrogazione su quanto accaduto, respinta o meglio rinviata al prossimo consiglio comunale. Parla di Sulmona liberamente fascista la Nannarone e di un'amministrazione che avrebbe alzato i ponti levatoi attorno a Palazzo San Francesco per operare con poca trasparenza. Il Movimento 5 Stelle, che risiede tra i banchi della maggioranza, ha chiesto un incontro tramite il coordinatore provinciale Attilio D'Andrea con il primo cittadino per vederci chiaro sulla faccenda. Minimizza, invece, Angelo D'Aloisio, consigliere comunale grillino, che parla di vertice programmato per fare il punto della situazione sull'amministrazione. Versioni contrastanti che mettono in luce una differenza di vedute anche all'interno dell'Universo 5 Stelle, che lo scorso aprile decise di non staccare la spina all'amministrazione dopo l'ingresso in giunta dell'assessore Andrea Ramunno, il quale ha alle spalle un passato nelle fila dei civici, discrepanze anche all'interno della stessa maggioranza, che mantiene la rotta guidata dagli astri.